Con il professor Paré non c'è dubbio, è una sicurezza, i suoi corsi sono fondati su radici molto solide, è un'esperienza fortissima che mi ha cambiato la vita, come tutte le esperienze con il professor Paré, abbiamo appreso delle nuove tecniche come la rivoluzione oculare, ho lo stesso rapporto con le persone che lo utilizzi quotidianamente. Il team è mostruosamente importante, da dieci e lode per professionalità e organizzazione totale, sicuramente lo consiglierei a chiunque disponibile al confronto.